Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming In questo video vi spiegherò come completare la sfida nuota nei presi di diversi cartelli di divieto di balneazione Cioè, questo cartello La prima location la si trova qui, praticamente, in prossimità della diga, qui, dove sono io Quindi, diciamo, vicino Pantano Palpitante, qui, praticamente E dovete semplicemente nuotare nell'acqua, in questo modo Quindi superate il cartello di divieto e nuotate nell'acqua La seconda location, invece, si trova qui e la vedremo tra poco Rieccomi, la seconda location è qui, praticamente, vicino Brughiere Brumose Dovete raggiungere questo molo per trovare il cartello Quindi, stessa cosa, nuotate nell'acqua, al di là del cartello E sbloccherete, diciamo, la sfida Completerete la sfida di nuotare nei pressi di diversi cartelli di divieto di balneazione Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto Iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming E per qualsiasi domanda, non esitate a lasciare un commento Grazie a tutti!